Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale, prudenza per nebbia in A1 tra Roncobilaccio e Aglio, raccomandiamo di moderare la velocità. In Fipili per incidente troviamo coda tra Empoli Est ed Empoli in direzione di Livorno. Uno sguardo alle statali sulla statale Trebisti Berina E45 troviamo fondo stradale dissestato tra Val Savignone e Borello. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario e informiamo che le biglietterie di Campiglia e Orbetello oggi e domani sono chiuse al pubblico. Per il traffico aereo il volo Firenze-Monaco delle 16.35 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 17.30. Il volo Pisa-Madrid delle 16 alle 17.00. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!